E dopo quasi circa un anno di assenza, eccoci tornati su Super Mario Maker Con il microfono attaccato malissimo, adesso sistemi cavi, giuro E salve a tutti, oggi siamo qui su Super Mario Maker, episodio... Mi sembra il 4 Come al solito tenteremo di fare la partita difficile Non ce l'abbiamo mai fatta E oggi ci riproveremo C'è sempre la stufa che mi sta facendo un caso della madonna Ma non è come il terzo episodio col... Basta, guardate lo schermo! Non è come il terzo episodio con Andrea che la stavo sudando Avevo la fontana di Trevi che scendeva Vaffanculo! Come si chiami? Pazzo, Ishi Senpai Asi che non si può più mettere le stelle perché mi vabbè Non devo guardare lo schermo! Perché mi vabbè se è stato finalmente chiuso a me Mi avevano bannato tipo 3 anni fa Perché avevo scritto un po' Anzi un disegno Avevo scritto coglioni Qua e poi Io devo scorreggiare ragazzi In maniera incredibile No, gli sti belli fatti così li odi C'è nel senso Non è che puoi decidere la mia vita Chi è il più veloce Io! L'avete capito vero? Chi è il più veloce E metto la macchina L'avete capito vero? Vaffanculo, cavolo Cioè in tre episodi Quattro anzi L'inquadratura è che mette un sacco di voli Ecco a voi un rewind dei precedenti episodi di Mario Maker Con tutte le inquadrature di Oh cazzo sta finendo il tempo Salve a tutti oggi siamo qui su Super Mario Maker Salve a tutti oggi siamo qui sul secondo episodio di Super Mario Maker Salve a tutti oggi siamo qui per la Terza volta su Super Mario Maker Queste palle qua rompono un po' le palle L'avete capito queste palle qua rompono un po' le palle Ma scusate se vado avanti così L'idea c'era Dai qui Dicevo c'erano le C'erano le frecce vuol dire che là si può andare Invece no Non si può andare perché devi fare lo stronzo Mi dovrei fidare? Ma sì dai fidiamoci Io mi fidavo di te Io mi fidavo di te No già ok Sì ma io non posso andare avanti senza saltare Non mi ha preso il salto Ma sarai poco stronzo però eh Come ti capito? Ottimo Benvenuti al quarto episodio di Mario Maker E oggi non Non guarderemo i livelli difficili ma quelli che ho fatto io Ma che cazzo di musica è? Non ve li farò vedere tutti perché alcuni mi fanno veramente cagare E tipo questo fa veramente sì Poi lo faccio vedere lo stesso Questo non è il mio livello più bello Poi io che faccio i livelli easy La mia pronuncia in inglese è fantastica In realtà questo qua se non sbaglio era un Uno che va da solo Un automatico Ah sì me lo ricordo Easy hard Sopra va easy Sotto è hard Easy un co Non mi ricordo come si faceva Forse va qui in blocco Ah appunto c'è un blocco nascosto Io comunque io Cioè livello Guardate quanto è guidato Oh no Caso Veri a Questo livello Non lo fai più se non vai là in tempo Poi se stai in mezzo si bagga e non ti fanno nulla Però appena cadono devi Ah questa è una cagata Devo smetterli a pensare se Che palle Mari Come la tradizione vuole Massi moriamo Sì bravo Posso neanche uscire Sennò poi ti vuoi giù la telecamera Per la vermedia Succede proprio un casino Perdo la registrazione No no ma perché Sembra che Punto Calcolate i tempi Nihuno che Fa il Il coglionazzo come me E non Segue la via diagonale No 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 va prima Destra Ah questo livello è uno dei più fastidiosi Infatti l'ho chiamato Le molte molle del fastidio Le molte molle del fastidio Vuol dire che ho messo tutti Gli effetti Grazie A questo livello mi è sempre piaciuto Mario al contrario Non è che vai da senza destra Ma da destra o sinistra Questo me lo ricordo insieme E appunto E devo stare zitto Mario Ciao 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 Cosa cazzo stai facendo Non si corre così La 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 Faccio schifo a cantare Ma si dai su Faccio schifo a cantare Non è che manca quella pianta La potevo anche Mettere a qualche altra parte Che poi anche qua Non è che se cadi muori No 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 Ti do la possibilità di tornare indietro Ma si no Alla fine tutto quello che non voglio che venga fatto L'ho fatto Dio santo Stavo guardando Whatsapp Scusa E poi che faccio che simpatico Bowser vs Bowser Gioia Perché non è un litigio in famiglia No Non Non è ammesso Che cazzo è sto Che poi ne ha vogliato Suo livello Basta fare così Un omicidio in famiglia Cioè guarda che simpatico Oh Ho sbagliato tutto E quindi mi piace se vi è piaciuto il video Iscrivetevi E ciao Che brutto modo di fare l'altro E se scaricata la batteria Che brutto modo di fare l'altro